Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tg Videodiritto. Queste le principali news. Danno biologico di lieve entità. Fissate i nuovi importi per il 2010. Donna in pensione a 65 anni a partire dal 1 gennaio 2012. Il Consiglio dei Ministri approva la norma sul pubblico impiego. Test d'italiano per cittadini extracomunitari. Un decreto ministeriale descrive le nuove regole. Elenchi telefonici. Via libera alla ricerca inversa. I chiarimenti del garante della privacy. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 maggio scorso sono stati aggiornati per l'anno 2010 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, di cui è l'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni. I nuovi importi sono così stabiliti. Euro 739,81 per il primo punto di invalidità. Euro 43,16 per ogni giorno di inabilità assoluta. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno scorso, ha approvato una norma che innalza l'età pensionabile delle donne del pubblico impiego a 65 anni a partire dal 1 gennaio 2012. L'intervento fa seguito alla sentenza della Corte Europea che ha condannato l'Italia per discriminazione tra uomo e donna in materia di età pensionabile. La norma prende la forma di un emendamento da presentare in sede di conversione del decreto legge sulla manovra finanziaria anticrisi, attualmente all'esame del Senato. I risparmi liberati dall'innalzamento dell'età pensionabile, ha dichiarato il Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna, saranno destinati ad interventi reali che permettano alle lavoratrici di conciliare con meno difficoltà la vita professionale con quella familiare. Dal prossimo primo dicembre i cittadini extracomunitari per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dovranno superare un test di conoscenza della lingua italiana. Le modalità operative del test sono descritte nel decreto 4 giugno 2010 emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con l'istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno scorso. Il provvedimento richiede un livello di conoscenza della lingua italiana pre-intermedio che consenta di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti. Sono esclusi dal test i minori di 14 anni e gli stranieri affetti da gravi limitazioni derivanti dall'età, da patologie o da handicap. Dal primo gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l'interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore. È quanto chiarito dal garante della privacy con il provvedimento dell'8 aprile scorso, a seguito della richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull'elenco abbonati. La possibilità di ricerca inversa riguarda i vecchi abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1 febbraio 2005 e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto.